Ti presentiamo il set di sopravvivenza più adeguatamente equipaggiato di ISOP per ogni occasione, terremoto, incendio o inondazione, questo set ti aiuterà a sopravvivere. Anche se ti ritrovi su un'isola deserta come Robinson Crusoe, avrai tutti gli strumenti per sopravvivere. Di seguito vi presentiamo ogni articolo del set che abbiamo scrupolosamente selezionato separatamente e vi raccontiamo tutte le possibili applicazioni di ogni prodotto, che, tra l'altro, non solo sono utili nelle situazioni di emergenza, ma anche nella vita di tutti i giorni, in campeggio, arrampicate in montagna o escursioni con la famiglia. È necessario disporre di questo set.